La vittoria che voleva Mr. Nicola Ragno, avventurosa e palpitante, cruciale e importantissima, lucente di ruvida bellezza. I tre punti infatti sono arrivati all'ultimo respiro, al culmine di una rimonta strabiliante su un portici certo coraggioso e propositivo, ma non più che ordinato. Il tecnico Molfettese, che dedicherà il trionfo di giornata all'amico Sergio, che sta lottando contro un brutto male, si affida all'amagino degli scafati Colella, Sirri e Petta, affianca il solito gladiatorino Mariani al facitor di gioco Capece, davanti il funambolo Tuorino e il generoso Genchi. Il collega Panico si barrica con Savarise, Bicelli e Arpino, in cabina di regia Piazza Guadagni e Carnevale, reparto offensivo con Prisco e Maione. Dopo il doveroso ed emozionante minuto di silenzio in memoria del Pablito Mundial, la gara si rivelerà un monologo bitontino, intervallato solo dal punto campano. Si parte al sesto con Mariani che intercetta palla, Capece ispira, tacco arguto di Taurino e bolide da fuori di Genchi. I guantoni di Scheper sventano la minaccia. In 60 secondi ben tre occasioni per i leoncelli. Prima, zuccata di Genchi schermata da Biceglia. Ancora il 6 biancazzurro disinnesca sulla linea una splendida botta al volo di Taurino. Infine, conclusione di Petta sporcata dalla difesa che si spegne fra le braccia di Scheper. Minuto 17, Siluro di Capece dai 30 metri, volo del portiere napoletano che con la punta delle dita salva. A 4 dalla mezza ancora Triarico da lontanissimo, blocca l'estremo porticese. Al quarantesimo vantaggio ospite, corner da sinistra, Figliola rispinge il cuoio che carambola sulla nuca di Maione e si insacca Beffardo. Poco prima dello scadere, punizione di Triarico dal limite, pugni providenziali del goalkeeper altrui. A rientro dagli spogliatoi si riprende con le formazioni invariate e i padroni di casa arrembanti, nonostante il prato zuppo di pioggia impietosa e le nuvole di cenere sospese sul città degli Ulivi. Al quarto d'ora incornata robusta di Petta, rimbalzo e palla sopra la traversa. Subito dopo il pareggio, angolo da destra, colpo di testa di Genchi e pallone imparabile nell'angolo basso. E il ventunesimo quando Taurino dribbla il marcatore e prova l'interno a giro, alto di poco. Di nuovo Triarico quasi in scivolata, Scheppersi a cartocce e para. Minuto 44, torre acrobatica di Lattanza e volè in precisa di Montinaro. Il sospirato gol del successo al secondo minuto dei sette di recupero. Piazzato da sinistra è testato a toni truante e vincente di Petta.